Sono Nino Valenza, mi occupo di materiali, per adesso lavoriamo presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali e con l'MP Strumenti abbiamo una collaborazione di lunghissima data. L'MP Strumenti l'ho vista nascere, mi ha sempre supportato per tutte le esigenze, per tutte le necessità di apparecchiature di chi avevo bisogno. Il campo varia dalle apparecchiature aerologiche alle apparecchiature dinamico-meccaniche, l'ultimo acquisto della METRAVIP è stato sicuramente una grande opportunità per me anche perché questa è un'apparecchiatura assolutamente unica. Cosa dire dell'MP Strumenti? Certamente è una ditta con cui io mi sono sempre trovato bene, ho sempre trovato massima disponibilità sia nell'assistenza nella fornitura che soprattutto nell'assistenza nella gestione dell'apparecchiatura, sia da un punto di vista di installazione che poi di manutenzione durante il loro uso. Qual è il punto di forza dell'MP Strumenti? Sicuramente la capacità che hanno di offrire la soluzione migliore, quindi riescono sicuramente a trovare per qualsiasi tua esigenza l'apparecchiatura giusta, quella che puoi sicuramente, che ha la tua portata e che posso sicuramente soddisfare tutte le necessità e bisogni che tu hai. Lunga vita all'MP Strumenti. Ciao Mario, tanti auguri. Questa possibilità di festeggiare insieme quest'anniversario ritengo che sia una cosa molto bella. Come al solito tu non ti smentisci mai, devi fare sempre la cosa più bella ed essere sempre il numero uno. Tanti auguri Mario.